La squadra mobile di Pescara, insieme a quelle di Chieti, Teramo e Napoli, questa mattina ha stroncato un traffico di droga tra Campania ed Abruzzo, portando a termine l'operazione Pitbull contro un gruppo criminale di Matrice Campana che con cadenza settimanale trasportava consistenti partite di cocaine acquistate a Napoli e poi rivendute ad una rete di spacciatori attivi sulla costa abruzzese. Due le misure cautelari autorizzate dal GIP del Tribunale di Pescara Maria Michela di Fine e 24 complessivamente le persone denunciate nelle indagini. Sono stati sottoposti ad obbligo di dimora due napoletani di 51 anni considerati i vertici del gruppo, eseguite inoltre una dozzina di perquisizioni in quattro province nei confronti dei componenti della rete di spacciatori di secondo livello attivi tra Pescara, Montesilvano, Silvia e Ortona. Nel corso dell'operazione, con il supporto delle pattuglie del reparto prevenzione crimine e delle unità cinofile della squadra volanti di Pescara, gli agenti della mobile hanno anche sequestrato alcune dosi di droga insieme a sostanze da taglio, bilancini elettronici e soldi incontanti, segno evidente secondo gli inquirenti che le attività illecite degli indagati erano tuttora in corso. L'indagine Pitbull, così si faceva chiamare uno degli spacciatori, è partita dall'arresto a marzo 2013 di un 43enne pescarese nella cui abitazione in pieno centro furono trovati 600 grammi di cocaina. L'uomo, secondo le indagini, era il referente locale del gruppo campano e si occupava della custodia e dello smaltimento delle partite di cocaina, nonché della riscossione dei proventi delle vendite. Nel giorno dell'arresto fu trovata una lista contenente la contabilità del gruppo, il cui esame, insieme ad intercettazioni telefoniche, ha permesso al PM della procura di Pescara Gennaro Varone di ricostruire le attività illecite.